Che la centrale 118 di Arezzo fosse un'eccellenza lo sapevamo già. Questa pandemia lo ha dimostrato ancora di più. Procedure e progetti innovativi che hanno consentito agli operatori di agire in sicurezza ai cittadini di essere assistiti con livelli altissimi di professionalità. Qui ad esempio vediamo un equipaggio che rientra da un intervento con pazienti Covid. I medici e gli infermieri non accedono alla centrale ma lasciano indumenti e dispositivi di protezione in questa tenda mentre il mezzo viene sanificato. Nulla è lasciato al caso, nemmeno, forse tra le cose più importanti, l'aspetto emotivo e l'empatia che si deve creare con il paziente che si va a soccorrere. Tra le ultime novità introdotte c'è questo casco che consente al medico di respirare e togliere la mascherina in modo da farsi vedere in volto dai pazienti. Come funziona questo casco? È interessante la soluzione tecnologica perché il dottore, come vedete, può intervenire a casa del paziente, farsi vedere in faccia, quindi avere la possibilità di un contatto anche umano con lui nonostante l'intervento tecnico che sta facendo, in piena sicurezza, non indossa la maschera chiaramente che è pesante sul viso, non ha l'appannamento, è interessantissimo. Dovesse succedere qualcosa, rimane impigliato e si sgancia, dentro la maschera c'è una pressione positiva quindi l'aria esce e basta, niente di contaminato entra verso di lui. E questo sicuramente è un ammodernamento che ci consenterà di far lavorare meglio gli operatori, quelli intraospedalieri ma anche quelli extra e ci consentirà presto di far vedere i medici e gli infermieri e i nostri pazienti, di lasciare questo volto mascherato che fa paura ma dare una dimensione anche più umana al soccorso. E come è accaduto a Pisa, anche gli operatori del 118 saranno dotati di un sistema di videotrasmissione di immagini grazie a telecamere installate sui caschi che indosseranno gli stessi operatori. Dalla centrale sarà così possibile vedere direttamente il paziente e valutare meglio nel minor tempo possibile la situazione e di conseguenza anche la diagnosi.